ciao a tutti e benvenuti in questo episodio di minecraft ita secondo episodio del tour del mondo voglio ricordare una cosa l'ho detto uno scorso episodio ma nessuno sarà cagata quella parte ragazzi se cambia la mappa non finisce minecraft ita sarà solo una nuova mappa il che è ancora meglio perché i nuovi iscritti avranno quel livello di affezionamento esiste come parola penso di sì di affezione per la nuova mappa è bello iniziare nuove idee nuovi nuovi progetti anche sul fatto di dover tornare a minare dopo secoli che non voglio minare sul serio in questa mappa e lo ripeto questo non è un mondo prigenerato lo fa tutto io come l'ho fatto qua posso farlo dieci volte meglio nel prossimo mondo ben speriamo però quella l'idea allora questo è un piccolo punticello fatto sulla donna il fiume donna il lago di o il lago donna la donna fatta acqua quella insomma c'è un episodio che si chiama la donna non mi ricordo quella è una donna non lo so allora questa è la mia diciamo le stilizzazione di una ragosta lo so non è colpa mia allora quello è un occhio quello è un altro occhio questa è tipo la cresta da emo cioè la cresta al ciuffo da emo queste sono le chele dai non dimmi che non ci assomiglia tipo quelle quasi tipo quelle aragoste di mister bin il cartone animato no dai non ditemi di no e questa dovrebbe essere sarebbe dovuta essere avrebbe dovuto essere avrebbe dovuto essere la mia stanza delle delle pozioni fatto sta che oltre al fatto che un camion mi sta passando sotto casa fatto sta che per il tempo che ho avuto questa cosa così le pozioni non le ho cagate di striscio perché effettivamente non mi piaceva come sistema avrei avuto qua ci sono tutti tutti gli ingredienti dovevo portare l'ingrediente qua l'ingrediente non va a far fare di qua tu un set tu un set all'allero fa 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 dovevo aspettare che finissi ah ok ha finito bene allora lo faccio così uno uno punto esclamativo a mamma mia che bello uu e dopo e non è una cosa quindi abbiamo creato quello ma quello vediamo dopo anche perché dovrei giusti beh che la giusta fai devo cambiare mappa questo è un laghetto il famosissimo laghetto panoramico dove abbiamo pescato gozilla e anche nessi e qua c'è una caverna molto bene qui invece c'è un mulino mi ricordo il mulino perché il mulino l'ho costruito in quell'episodio in cui parlavo della pelle che abito quel film stranissimo quel film che oddio quel film quel film mamma mia e anche questa è una cosa che pochi iscritti si ricorderanno oddio è un mulino quindi dobbiamo generare del grano infatti li c'è del grano visto grano 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 everywhere e anche questo c'è un po di vetro così giusto perché noi pochi siamo e nient'altro poi abbiamo qua il ponte questo punto è mi piace molto soprattutto per questa zona centrale mi piace mi piace per davvero mi schilla cioè voglio dire mi piace tanto e e quindi congiunge il villaggio della costa con la zona del mulino del parchetto che andiamo a vedere e la zona del secondo villaggio io prima vedere il parchetto al parchetto è semplicemente una zona dove respirare un po di verde per rigenerare l'ossigeno perché insomma con tutte queste mucche che io c'ho nel mondo di minecraft ita cioè peggio peggio di una fornace a petrolio proprio allora abbiamo un sistema di luci automatico che viene attivato tramite una luce che si trova se non sbaglio di là hanno qua daylight sensor che attiva le luci quindi di notte si accendono e da una frigata abbiamo qui qualche panchina per passare la giornata a leggere qualche libro no scherzo a guardare qualche film sul tablet e niente così molto sciallo per rigenerare un po l'ambiente dato che lo lo oversfruttiamo come si dice in gergo molto carino molto sciallo di line l'interanza potete vedere il lago ghiacciato anche quella parte molto importante ma no scherzo nessuno se l'ha mai chiamato scendiamo ok andiamo a dare un'occhiata da nessuna parte se c'è ancora il letto dormo non c'è più il letto non c'è più il letto sul serio merda non c'è più il letto abbiamo da dormire ho dormito ma intanto vi dico anche un paio di altre cose allora qui abbiamo una ender chest con un paio di cose abbiamo anche protection 4 un paio di diamanti with the skeleton un paio di picconi e qui abbiamo la stazione di minecraft era stazione la metropolitana che era il metodo con cui io andavo a notte fornaci e metodo con cui io andavo alla cosa dell'end alla stronghold dell'end che comunque dopo vi mostrerò quindi prenderemo questo kart sempre se mi ricordo beh o in questo nel prossimo episodio perché penso che arriveremo a fare anche un terzo episodio del world tour del tour del mondo allora prima di fare la stanza delle pozioni parliamo anche della stanzetta del quarzo il quarzo è stato un casino trovarlo perché io avevo già una buona generazione di nether e quando è uscito è stato un casino niente qua l'idea è di tenere del quarzo ma purtroppo non ne abbiamo così tanto e quello che ho preferisco tenerlo lì in casa poi trattiamo direi prima la zona sud del nostro mondo abbiamo una piccola pineta barra foresta e qui abbiamo il macellaio una bella struttura che mi piace la struttura e questo va beh questo è il nostro macellaio come vedete si tiene molto all'igiene personale perché nonostante ammazzi tante mucche guarda è sempre bianco e lindo abbiamo giusto un frigorifero qui possiamo prelevare un po' di frutta fresca e qui semplicemente si sale le mucche le troviamo qui in basso così così le ammazzo anche perché avrei bisogno di cibo peccato che non abbia grano queste sono le mucche lei lei è mucchina si è un po' sospiciale nel mio cuore ciao mucchina ti vorrò sempre bene e invece ora andiamo a dare un'occhiata quello che è il bar di minecraft ita dove tutti i villager vanno per riposarsi dopo le lunghe giornate di registrazione eccolo qua anche questo è un design che mi piace molto il pavimento se l'avrei potuto farlo meglio ma così anche abbastanza carino perché a volte ci sono alcuni bar no che hanno le piastrelle proprio nel all'interno posto di pavimenti tutti lisci oppure la mochette quelle cazzate lì c'è mochette no ancora ancora però come vedete il villager di ieri sera si vede hanno lasciato dei boccali di birra perché qua guarda ci sono i boccali ancora pieni qua invece abbiamo il listino abbiamo le scorte di alcol cioè naturalmente birra cioè birra analcolica bibite tutte analcoliche cioè non ubriacatevi ragazzi miei e qui ho un disco micchia no eccolo la che ti fa venire la crepa pelle un'idea su questo bar era quello di farmi fucco demonio levati però non voglio di ritenerti beh stai lì è quello di mettere avete presente come nei film tipo film western soprattutto quando c'è il barista arriva il il pistolero di turno che dice ehi barista dammi un boccale di birra lui arriva qui e il barista prende prende il boccale e prende con la mano destra merda con la mano e fa fuuu ma gli parte via e voglio fare una cosa del genere con il ghiaccio però c'è ora potremmo anche farlo con la 1.7 perchè hanno aggiunto il ghiaccio compattato che non scioglie la luce a nessuna luce a dire il vero e quindi potremmo anche fare un castello di ghiaccio e merde varie eh quindi gg qui abbiamo altri due edifici questo ormai senza porte perchè il tempo l'ha usurato qua la piccola fam di zucco è giusto per dare un po' di carattere e spessore ma soprattutto carattere allora qui abbiamo una pozza di lava che è stato tipo una delle prime cose che ho coperto per paura di morire e di perdere tutto qua un paio di cose un mele potrebbe prenderle no però potrebbe usare un paio di cose che non mi servono eh se permetti tipo questo 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 magari questo me lo tengo questo però no questo no beh questo si scherzavo questo no questo me lo porto perchè mi serve questo non mi serve questo non mi serve 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 ok questa è semplicemente una casetta una postazione di lavoro dove poter dormire però mi piace molto qui abbiamo il diciamo tempio che poi è un tempio all'aperto perchè faceva caldo in quel periodo quindi ho detto no adesso devo fare un tempo un tempio facciamolo all'aperto che è meglio come vedete abbiamo dei pilastri molto molto grandi molto molto l'unica pecca è che non toccano quindi è un po' un controsenso perchè sono pilastri che non reggono niente alla fine però da lontano si vede bene quindi gg e qui dentro abbiamo uno spazio per gli achievement che era un dia iniziale molto carina per la fine di essere andata persa con la maggior parte dei progetti di minecraft ita di qua la baita la baita la baita devo mostrarla per forza la baita è una grandissima cosa la baita la baita best player 1 la baita è una costruzione che ho fatto tra l'altro anche in periodo natalizio se non erro è venuta molto bene mi piace da lontano è sempre molto molto carina questo è semplicemente il mio rifugio invernale come vedete è tutto fatto in legno per isolare termicamente il tutto dietro abbiamo proprio anche un cappotto proprio con una piccola finestra che non serve a niente in realtà ma è solo per il gusto di metterla anche un camino anche un camino perchè noi dobbiamo tenerci al calduccio durante l'estate con la mia skin natalizia che tra la trovo ancora quindi aspettate il periodo natalizio una piccola cosa una endercess per avere accesso alle cose principali e un piccolo forno barra stufa barra griglia giusto per vedete qua qua questa è la griglia no? bisogna fare un po' di carne durante l'inverno con una grigliata di funghi che andiamo a raccogliere nella foresta adiacente molto bene avviciniamoci vicino avviciniamoci vicino andiamo verso uno è accaduto qualcuno o qualcosa comunque avviciniamoci a uno dei progetti grandi che ho tenuto minecraftita soprattutto uno dei più originali tra l'altro quello dei cerchi multidimensionali sono letteralmente dei cerchi vabbè me lo spiegamo dopo qui è la farm di grano che ho fatto come vi ho spiegato in un altro episodio arrivata da quella per la farm dei biscotti e qui ho semplicemente ampiato mi chiambo un po' per il villager invece questo mi serviva allora cerchi bi... tre dimensionali cerchi bi... cerchi... dimensionali tridimensionali no tridimensionali suono male cerchi validimensionali no che cazzo bidimensionali avevo detto suono bidimensionali vabbè non mi ricordo vabbè cerchi ok cerchi con super una dimensione sono dei dei vedi propri cerchi in cui ho cercato di immortalare dei pezzi di minecraft di ogni dimensione qui abbiamo l'overworld qui come vedete abbiamo degli alberi una casetta anche diversi alberi dell'erba e tutto qui abbiamo il cerchio del land con della glowstone sotto e sopra una torre della fortezza del nether che oddio mi sembra bugata da qui ah no ok e qui quella del land che è un po' più spoglia ma è anche normale perchè land è una delle cose più spoglie mhm ti piace vero ti piace davvero mhm altro che mi skill mhm ehm avviciniamoci alla giungla che è stata abbastanza importante in quanto fonte di ehm recupero animali proprio qui c'è il wwf c'è una base di wwf solo non posso mostrarla per segreto nazionale è sicurezza di stato ragazzi capitemi qui è dove c'è la torre del nether perchè qui avevo craftato un altro portale che poi in realtà si è andato a congiungere con quello vecchio quindi è stato un casino l'ho dovuto rimuovere ma questa è rimasta quello è un osselot io voglio ammazzare l'osselot non chiedermi perchè uuuu l'ho dovuto rimuovere vabbè 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 ciò che ne deriva cioè in gattini gattini pucciosi intanto dopo devo mostrarvi anche la tomba di sfigata vabbè devo ancora pagarmela pezzo di merda ok passiamo ora a uno dei progetti più recenti in realtà se non l'ultimo progetto è stato l'ultimo progetto questo eh sì è stato l'ultimo progetto prima del chancresetta la il porto il molo mmm mmm la nave pirata è una è una è una navicciola che come vedete vabbè tanto qua abbiamo una farm di riz di riz di riz io sono piloto da di cani scusate il singhiozzo di cani da zucchero è una navicciola pirata che va guardata solo da lontano eh l'ho fatta in modo che da lontano sembri qualcosa di carino da vicino naturalmente essendo piccola eh c'ha tutta l'imprecisione dei blocchi e la sdettagliatezza come vedete non è un gran che da vicino qui abbiamo l'entrata di sto molo che in realtà non è terminata perché io avevo altri progetti per sta cosa tu sei un creeper dovresti morire male come vedete torri un po' di eh con un po' di eh molto bene oh shit nica ah bitch ah il problema è che non è morto perché è caduto nell'acqua poi di qua abbiamo la fonte primaria e unica tra l'altro di neve che è il nostro amichetto snowman snow snow golem quando dico snowman viene sempre in mente il film di Jim Carrey la di Iceman non è figata quel film ha anche un significato profondo se uno lo prende eh il significato intendo e il principio è molto facile ve lo spiego un attimo ora che mi dispaccio di questi maiali maiali ok holy shit di odio oddio ma vuoi morire bitch ok calma guarda quanta esperienza oh shit nica ok ho capito boom boy ok you must die ok dovremmo essere presso che a posto il principio è molto semplice come forse non tutti sanno gli snow golem possono essere spawnati dappertutto beh a parte nel nel nether perchè moriranno e nei deserti perchè moriranno anche nei deserti ma non possono essere spawnati in certi biomi come vi ho appena detto nei deserti e nel nether però anche se spawnate ad esempio in una pianura non produrranno la neve che è una cosa che invece a noi serve è l'unico modo merda please don't drop ok ti amo è l'unico modo di di farmare la neve insomma quindi lui sta qua io ho messo una tettoia sopra così non muore per la pioggia perchè la pioggia essendo acqua gli fa danno e siamo a posto bisogno di cibo bene direi che possiamo passare ah beh questa è la cupola del nether ehm ora ve la mostro dai molto carino il tunnel in cui ho fatto un bel casino a dire il vero perchè ho dovuto usare del ghiaccio questo ah e questa è la farm di funghi la farm di funghi che tu devi morire ehm anzi proviamo a vedere se c'è qualche cosa si ho sentito delle degli sradicamenti eccoli lì funghetti fungosi ehm questa è una mini temporanea cosa di qua vabbè qua c'era la farm di cosa prima del chunk reset c'era la farm di di polli di galline che mi dava le uova non sei morto ah no perchè non ti ho fatto danno c'era l'acqua poi vabbè qua ho messo un paio di alberi giusto per rinvivere un attimo la zona questo abbiamo già parlato questa è la stalla dove abbiamo pegaso pegasus verrà con i suoi amici eroi ok basta abbiamo ciuchino e abbiamo pingo pongo scusate vabbè ma perchè non prendiamo pongo per andare in giro vieni qua pongo ti voglio bene ho una led? no qua no perfetto andiamo pongo pingo pongo pongo pingo pingo pongo 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 boom 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 per pingo cioè pongo allora andiamo alba faccio di un attimo questa che lo so sembra più una formiga che un cavallo per via dell'orecchio ma non sono riuscito a fare un buon orecchio design della stalla carino davanti un po' meno un po' più spoglio qua i lati dietro ma noi ci accontentiamo questo era il mio design per la farmatomatica di dirizza trova che cacchio fai questo andammi fuoco pizzo andammi fuoco pizzo andammi fuoco ok poi alla fine l'oro sputtanato per cercare di fare una cosa non mi ricordo neanche cosa a per cercare di mettere il doppio coso vabbè lasciamolo stare e per questa parte del mondo direi che sia posto non scherzavo allora qui abbiamo i villager che è anche uno anche questo un progetto molto recente allora progetto molto recente che coinvolge una cellula di riproduzione villager il principio è questo abbiamo un villager che viene posto in alto holy shit quello era un creeper viene messo qui in alto non ci sono tante porte quindi due o più villager che saranno messi qua cercheranno di raggiungere lui e accoppiarsi quindi entrano in posizione d'amore quella del kamasutra insomma di conseguenza essendo due o più allora loro non riescono ad accoppiarsi con quello però entrano in modalità d'amore quindi uno più uno fa due e arrivano i tre poi tre si moltiplica tutto effetto palla di neve o palla di lardo se sei il coso jack ma quel coso lì questo è un altro bug dello snapshot ma gg semplicemente ho fatto un botto di questi stando fk qui nella mia stanzetta fk li prendevo li killavo se non mi servivano oppure li spingevo poi alle loro cellule questi sono i migliori che ho avuto finora tutti e tre librai perché il trade migliore per farmare smeraldi è quello di della carta qui ci sono tutte le cose che ho preso ora sono in 1.6.4 quindi questi sono in chanted book senza un kaiser tra l'altro ma dettagli pingo pongo pongo pingo vieni qua allora possiamo riattivare il suono ora andiamo e vi mostro anche la farm di ghiaccio e la farm del guider che anche questo è un progetto molto recente lo faremo comunque nel prossimo episodio vi invito come al solito a lasciare un mi piace ed iscrivervi al canale per restare aggiornati sui prossimi episodi io vi saluto ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti